Buongiorno a tutti. Ringrazio voi di essere venuti, ringrazio Apri e Repiliguria per avermi nuovamente invitato. Ho scoperto adesso che è la dodicesima volta praticamente che vengo, visto che con il dottor Fusi qui davanti ed io siamo sempre stati praticamente presenti. Volete più forte? Volentieri, temevo solo di assordare tutti. Di qua si sente un grosso riflesso della voce da dietro. Dicevo, il titolo è un pochino irrituale e irrituale è pure il tipo di conferenza, nel senso che non è una conferenza scientifica, è una cosa completamente diversa. Bongi non ha letto le diapositive ma ha spiegato benissimo quello che volevo dire, ci siamo sentiti un pochettino naturalmente, perché secondo me è una cosa da spiegare. E ha presceso dietro il coso, sì. Allora andiamo avanti. Il titolo lo sapete. Il titolo lo sapete ma questo è bloccato qua. Andiamo bene, abbiamo provato. Ah, scusatemi, non è colpa mia. Chiedo scusa. L'avevo già lasciato pronto poi. Ok, così funziona meglio. Va bene. Allora, è un'idea mia, personale, diversa da quelle che seguiranno, perché vuole rappresentare il mio personale punto di vista nel rapporto medico-paziente e la realtà delle malattie che non hanno ancora una cura. Per anni la scienza è stata vista come un progresso continuo, certezze, ottimismo e quel che riguarda il futuro. In ambito biomedico poi c'è sempre un qualcosa nuovo che sta per uscire. Però, qualche volta, il risultato è stato più lontano di quello che si prevedeva. E questo distacco tra promesse e risultati potrebbe aver minato in parte quella fiducia quasi incondizionata di cui la scienza godeva. Premetto per tutte le persone che vedono male o non vedono, queste diapositive non hanno immagini. Sono praticamente soltanto lo scritto di quello che dico. Qualora ci sia un minimo di immagine, in pochissimi casi vi spiegherò a voce cos'è. E' chiaro quindi che la paura di una malattia incurabile, della morte, dell'invalidità, mantiene viva questa speranza della prossima scoperta. E come ha detto Bongi, il convegno è naturale conseguenza, informare correttamente tutti e in particolare qui chi ha affetto di patologie di tipo oftalmico. Abbiamo promesso tantissimo negli anni e forse non abbiamo sempre mantenuto. Ma è necessario tener conto che negli anni le tecnologie sono cambiate, il modo di valutare certe patologie è stato rivoluzionato. E quello che sembrava chiarissimo oggi è confuso, e quello che sembrava confuso oggi invece è più chiaro, siamo più vicini alla realtà. Io voglio parlare, visto che per anni sono stato, e sono ancora un pochettino, a diretto contatto con i pazienti. Pubblico speciale, pazienti affetti da patologie rare che per mille motivi non hanno una terapia, e da anni promettiamo una soluzione che è imminente. Onestamente mi chiedo, sono stato corretto? Siamo stati corretti? Promettere senza aver mantenuto è stata una colpa? Possono i pazienti rinfacciare a noi che abbiamo cercato di curare le troppe bugie? E questo onestamente è un pensiero che ogni tanto abbiamo. Certamente chiarezza e onestà sono le caratteristiche indispensabili nel rapporto medico-paziente. Ma troppo spesso la soluzione non è immediata. Lasciare aperta una speranza non è una truffa, e sono moltissime comunque le sfumature che possiamo illuminare in questo discorso. Secondo me è l'incertezza che crea false aspettative. Si legge di nuove terapie che hanno sconfitto una patologia, e poi si legge l'opposto. Le notizie indirette da amici, parenti, altri pazienti aumentano la confusione. E poi persone di età diverse, come si chiamano oggi, boomers, millennial, generazione X, usano strumenti diversi per informarsi. Secondo me un problema sono le fonti, cui accediamo per avere queste notizie. Quindi l'informazione sono i giornali, internet, i motori di ricerca, i social media e i congressi scientifici. Scusate, mi si è dato qualche piccolo problema. Allora, internet, comincio subito con gli articoli truffa. Questo mi è piaciuto moltissimo, c'è il dottor Fausto, puntini, puntini, puntini. È un famoso oculista, esistente, vivente, giovane, che è stato evidentemente tirato in mezzo in una pubblicità in cui lui non c'entra niente. L'abbiamo parlato lungo sulle chat tra oculisti e su whatsapp. Allora, in un articolo esclusivo per il nostro sito, il dottor Fausto XXXX dichiara Nell'86% dei casi gli interventi oculistici sono stati eseguiti in modo scorretto e non necessario. Un prodotto solo è sufficiente per la prevenzione e il trattamento delle malattie degli occhi. Ora, non hai nemmeno bisogno di andare da un oftalmologo per questo, come molti pensano. Una volta che riconosci i sintomi, devi essere trattato con qualche prodotto medicinale che è garantito per aiutarti. Ma quando vai dal dottore, ti prescrivi un trattamento obsoleto e se non aiuta, prescrivi un'operazione che è piuttosto dolorosa e costosa. Cominciamo così, uno dice, allora ho trovato la soluzione, cosa andiamo a fare le cose in ospedale? Oggi ci sono trattamenti migliori che mostrano fino al 99% di efficacia e la cosa ancora migliore è che sono indolorie molto economici. Vitavisine consiste in due componenti principali, l'uteine e mirtillo, signore, è una scoperta internazionale. Quando i due ingredienti sono combinati, hai il vitavisine, questo prodotto in grado di trattare e invertire tutte le malattie degli occhi e poi aggiungono dei prodotti che migliorano di cento volte l'effetto e dice appena il prodotto ha mostrato tale efficacia siamo stati attaccati da avvocati titolari d'aziende farmaceutiche della Repubblica Italiana. Nessun italiano scriverebbe Repubblica Italiana in un discorso del genere, comunque va bene. I motivi sono chiari, se il prodotto è davvero efficace non è adatto all'industria farmaceutica, certo, perché fa solo prodotti inutili. Sono stati investiti molti soldi nel nostro sviluppo e questo è un problema che troveremo dopo. Dobbiamo restituire i soldi investiti, pertanto non possiamo distribuire gratuitamente il prodotto, è unico, non analoghi nel mondo, è importante acquistarlo in un posto affidabile, cioè, e questa è la botta di vita, per chi non lo vede, c'è una cassetta tipo tesoro dei pirati, tutta bella, grossa, ben colorata. Stai partecipando alla promozione di Vita Visin, a causa della domanda elevata non possiamo elaborare ogni richiesta effettuata nel nostro paese, quindi con il sorteggio vi daranno diritto ad avere queste preziose goccine, capite? Se questa è una forma di informazione. E poi parliamo invece di vecchie terapie, che teoricamente sono sparite. La terapia cubana nel 1987-88 del dottor Pelaez, praticata alla vanne, elettrostimolazione, farmaci, vasodilatatori, trattamento con sangue proprio arricchito d'ozono, anche intervento chirurgico per innestare la tasca sclerale e materiale di poso retrobulbare. Miglioramenti eccezionali, stabilizzazione 75%, miglioramento del campo visivo nel 16%, tutto meraviglioso. Già nel 1997, alle critiche delle riviste scientifiche, ha detto che avrebbe pubblicato i risultati su un lavoro ben strutturato. Dal 1997 non è capitato niente. Ecco, ma perché parlo di questo? Senza lanciare la pietra, nascondere la mano. Nell'80 anche noi al Mauriziano facevamo gli innesti di placenta sotto congiunti, vai. Perché l'Associazione Professionale degli Oculisti Germania, Società Tedesca, Ophthalmologia, ha scritto nel 2022 che evidentemente queste pratiche continuano, ma che non è consigliabile andare a Cuba a spendere 20.000 euro per ottenere un risultato. Cioè, non è una cosa che sia giusto o sbagliata in assoluto. Però dopo 30 anni si potrebbe anche pensare che forse non funziona. Quindi a chi credere? Qui appare una scritta, per chi non la vede, è un po' lenta ma arriverà, agenzia di viaggi medici specializzati nel turismo medico. Allora, crediamo a questa agenzia o crediamo alle varie associazioni come Retina Suisse, come l'Apri, come l'Unione Italiana Cechi. Le pubblicità sono così. E poi esistono anche delle pubblicità che continuano eterne. Questa altra terapia con 59 euro risolve tutti, senza operazione, tutte le malattie come la cataratta e la caratite. Non so perché la scelta, cataratta e caratite. Comunque, queste goccine e la pubblicità vicina è una pagina di giornale degli anni 20 che prometteva di guarire dalla cataratta senza intervento. Quindi sono passati cent'anni e non è cambiato niente. Questa diapositiva la lascio perché certo la terapia russa non funzionava esattamente come la terapia cubana. Ma abbiamo un paziente recentemente che gentilmente ci ha portato le sue cartelle cliniche scritte in russo e continuano a vedere francamente come era allora. Ci conosce a tanti anni, viene. E poi dopo parliamo un istante della stampa e la televisione, è uguale. Ci sono persone famose, si chiama Annalisa, forse minette di cognome, che da una parte con coraggio ci è esposta per anni in cui molti cercavano di nascondere la malattia. E d'altra parte ha creato tante false speranze aiutata da giornalisti a caccia dei scopi. Su Grand Hotel ha detto che il buio sta per finire. Potrei tornare presto a vedere a Domenica Live con il salotto di Barbara D'Urso. Alla verità ha detto che in effetti ha perso completamente la vista. Nell'intervista su Grand Hotel, dando a capo il buio sta per finire. Cioè, capite, personaggi presentatori, così amati dal pubblico, hanno alla loro posizione una grossissima responsabilità su quello che dicono e sulle notizie che veicolano al pubblico. Passato veloce. 2014 era venuto fuori sull'elettrostimolazione. 2014, sono passati dieci anni. La burocrazia ritarda la possibilità di curare la rete dipendimentosa. Le lungaggini per ottenere il marchio hanno rimandato. 2014, 2017, c'è un lavoro che dimostra un certo vantaggio in alcuni pazienti. Nel 2019, Retina Implant ha deliberato di sciogliere la società. Giusto? Due ragioni. Nonostante i sedici anni di intensa ricerca, purtroppo non si sono concretizzati progressi pioneristici. Il lavoro è stato ostacolato, è sempre ostacolato da crimi ostili all'innovazione dei rigidi sistemi normativi e sanitari. Allora, e anche gli impianti retinici, con intensa attività di ricerca, sviluppo e vendita, hanno creato straordinari prodotti tecnologici del chip subvisivo dell'Ocustin per la stimolazione retinica. L'impianto retinico ha ricevuto in effetti il più alto riconoscimento in tutto il mondo. E poi, sebbene la maggior parte dei pazienti coinvolti negli studi abbia percepito la loro esperienza con l'impianto retinico come positivo, e qui si può discutere, i risultati raggiunti non sono stati altezza delle aspettative. Alla fine era troppo poco per consentire una maggior partecipazione alla società. Non è stato sbagliato farlo. Bisogna capire che però, per mille motivi economici e praticamente di scarso successo, sono stati bloccati. Come dicevo, sono molto d'accordo con i presidenti di Apri, Piemonte e Repiliguri, con cui ho parlato prima di iniziare a fare questa presentazione, ma comunque non c'era assolutamente nulla. E, per chi non legge, io immagino che tutti leggano e seguono il giornale dell'Apri, ma ho riportato solo due frasi sull'argomento. Sulle protesi retiniche, già da alcuni anni, questo filone di ricerca, metà strada tra la medicina e la tecnologia, sembrava poter rappresentare una possibile soluzione a situazioni di perdita della vista, a causa di non funzionamento dei fattorecettori retinici e di questo ne abbiamo parlato tutti. Oggi, a distanza di tempo, quasi più nessuno crede concretamente in questa prospettiva fatta di microchip e sensori elettronici. La società SecondSight è fallita, altri progetti non sono neppure decollati. In pratica esiste soltanto, e non sappiamo bene quanto, la protesi israeliana NR600. Oggi si preferisce parlare di soluzioni diverse come retina liquida, e ne parleremo dopo. Intendiamoci, c'è sempre una strada aperta dopo i fallimenti. Le terapie geniche anche sempre dallo stesso giornale. Le terapie geniche rivolte a correggere singole mutazioni, il problema in questo caso non è il rapporto tra tecnologia e sistema nervoso umano, quanto una questione economica. Le distrofie retiniche sono moltissime, mutazioni genetiche, nell'ordine centinaia. sviluppare un prodotto per ogni singola mutazione risulta costosissimo e praticamente per molto pochi pazienti. In pratica, allora a chi credere? I congressi scientifici di cui oggi non ho parlato sono troppo tecnici, destinati a specialisti e spesso danno delle risposte non utilizzabili che poi arriveranno al pubblico distorto e non arriveranno. In ambito scientifico si fa ricorso a un approccio comunicativo che deriva dell'eccesso di ottimismo scientifico del passato e che secondo me non solo non funziona ma qualche volta è contoproducente, spesso con il sospetto di qualche interesse, carriera, fondi pubblici che possa inquinare un pochino i risultati di qualche ricerca. Allora a chi credere? I giornali, la televisione generalista, i social media o c'è un'altra via? Le associazioni devono avere, questo non l'ho preparato con buon genio, diciamo le stesse cose ma ci siamo arrivati su strade diverse. Il ruolo di seguire la ricerca scientifica è quello non meno importante di non suscitare eccessivi entusiasmi e illusioni. Occorre dunque seguire il progresso della scienza con sano realismo e bisogna sempre approcciarsi alle notizie sensionalistiche con prudenza e sangue freddo. Quindi questo è il senso dell'incontro che stiamo a cominciare adesso finisco e lascio lo spazio alle relazioni importanti questa mia è solo un pensiero non è una relazione quindi ringrazio ancora l'APRI però ad alta voce rinnovo la sollecitazione a dare più ampio risalto a queste iniziative su giornali televisione social media è il problema grosso delle associazioni la difficoltà del far uscire quello che diciamo qui verso un pubblico più generale è bello avere tanti iscritti tante persone che ci conoscono e seguono e vengono a questi congressi però sarebbe ancora più bello vedere quello che abbiamo detto oggi pubblicato su dei giornali importanti quindi le associazioni sono il tramite più valido tra gli sperimentatori clinici le istituzioni fondamente i pazienti che ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti